un camminare silenzioso certo di protesta assolutamente sì certo contro lo stesso tipo di abusi ma insomma è il fatto che più persone camminino con la stessa idea siccome mi è stato contestato dall'accelere che questo significa un corteo e questo significa una manifestazione vietata allora dissi al funzionale scusi spero proprio di non aver sentito lo spero per lei cioè che più persone non possano la democrazia svolge un'attività pacifica di camminare quindi attività esterna solo perché hanno la stessa idea e sono vestiti allo stesso modo beh dico abroghiamo tutti i partiti che cosa dite anche quelli sono e quando fanno qualsiasi tipo di attività insomma vogliamo li e incriminiamo li perché hanno la stessa idea a quel punto il funzionario capì di aver detto qualche cosa di veramente grave gravissimo inammissibile e quindi poi ci fecero passare me tutti gli altri adesso vediamo se si sviluppa qualche tipo di contestazione a proposito il momento perché ne avrei anche voglio dire piacere di avere l'occasione di poter ritorcere poi verso chiunque svolga un'accusa di questo genere a questo punto le mie rimostranze perché sarebbe una attività pesantissima attività persecutoria di un'attività democratica libera di pensiero di azione pacifica che non è soggetta a nessun tipo di richiesta di autorizzazione per cui voglio proprio vedere a questo punto perché insomma è pronta naturalmente la mia controdenuncia eventuale per calumnie per quant'altro io Grazie a tutti.